A distanza di un mese parla l'uomo che ha salvato la vita, Marta Novello, la 26enne accoltellata mogliano mentre faceva jogging. Mi chiedeva di non lasciarla sola, ha detto, spero, di incontrarla. Rischio causa nei trasporti con il rientro a scuola dal 26 aprile di tutti gli studenti delle superiori per il presidente Zai e l'assessore De Berti è inconciliabile, 100% in classe con una capienza di mezzata sui mezzi. Firmato questa mattina l'accordo tra Ulster 3 Serenissima e i medici di base per le vaccinazioni degli over 80 a domicilio. Un agente della polizia locale di Veneto è stato aggredito da due giovani che volevano passare in una strada del Lido momentaneamente interdetta al traffico in seguito al malore fatale che ha colpito una 65enne. Una terapia d'emergenza per salvare la residenzialità a Veneto è quella prospettata dall'ex sindaco Cacciari per contrastare l'esodo della laguna che chiama in causa la politica. Muniti di guanti e sacchi giganti, un centinaio di volontari domeni che si sono dedicati alla pulizia di Forte Tron a Marghera. L'iniziativa Ne Temo Dei Forte Tron era stata lanciata nei giorni scorsi. Basket, l'Umana Reiera ha battuto Fortitudo Bologna, una vera vittoria di squadra. Il commento del coach Oro Granata al termine della partita. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque apriamo con le parole dell'uomo che ha salvato la vita a Marta Novello ad un mese di distanza. La 26enne accoltellata nel Trevigiano, mogliano Veneto, mentre faceva jogging. Mi chiedeva di non lasciarla sola, ha detto l'uomo che poi ha giunto, spero ora di poterla incontrare. Io stavo passando con il mio collega col furgone e praticamente abbiamo visto una bicicletta a terra in mezzo alla strada. Io mi sono fermato perché sennò non si passava e praticamente quando sono sceso per spostare la bici ho visto questi due ragazzi dentro al posto. La prima cosa che ho pensato è che fossero caduti con la bici. Infatti gli ho chiesto, vi siete fatti male? Lui non mi ha neanche disposto. Lei invece mi diceva subito, aiutatemi, mi sta accoltellando. A distanza di un mese parla Massimo Michielutti, l'uomo, l'angelo che ha salvato la vita a Marta Novello, la studentessa di 26 anni, brutalmente accoltellata mentre faceva jogging in via Marignana a Mogliano. A colpirla con venti coltellate un adolescente del posto che voleva finirla annegandola. Appena arrivato il ragazzo era ancora sopra di lei, che la stava tenendo con la testa sotto l'acqua. 30 centimetri di acqua però bastava. E quando ho chiamato su io sono andato dalla ragazza, ho chiamato il 118, non mi hanno risposto. Ho chiamato i carabinieri, loro mi hanno risposto subito, immediati. Mi hanno chiesto, hai chiamato il soccorso? Ho detto sì, ma non mi hanno risposto. Allora si sono arrangiati loro a chiamare i soccorci. Io sono stato là, ho ottenuto la mano alla ragazza finché sono arrivati i carabinieri. Lei diceva non lasciatemi da sola, state qua con me. E gli ho detto vai tranquilla, sono qua. Lei era cosciente, a fatica perché poi ho saputo che hanno bucato anche un polmone, per cui faceva fatica ad ispirare. Io sono stato là e poi ci sono arrivati i medici e l'hanno mandato via tutti, l'hanno messo in ambulanza. Mentre il ragazzo, in evidente stato di shock, era lì fermo, trattenuto dal collega che era insieme a Massimo. Lui era stato immobile, tremava, immobile. Cioè non si è spostato. Ancora da capire le ragioni del gesto, mentre Marta è tornata a casa con i suoi genitori. Grazie alla sua forza, ma soprattutto all'intervento di Massimo, operaio di Spinea, che spera di incontrarla al più presto. Mi piacerebbe molto, molto. Solo anche per stringerli della mano. Tanto per capire che sa bene. Io ho tre figli per cui ho. Cosa vuol dire per un genitore? Non è facile tenere una ragazza così. Ho visto solo delle foto su internet, anche in una bella ragazza, ma quando l'ho vista ieri era piena di sangue, per cui non si vedeva neanche il viso. Siamo all'emergenza Covid, firmato questa mattina all'accordo tra Ulss, tra Serenissima e medici di base per le vaccinazioni degli over 80 a domicilio. Dopo il fine settimana dedicato alle vaccinazioni con accesso libero per gli ultraottantenni, è stato sottoscritto un accordo tra Ulss 3 e le sigle sindacali dei medici di medicina generale per una due giorni di vaccinazione a domicilio, sempre per gli over 80. Prendiamo in carico le persone non autosufficienti, anziani che attualmente sono a domicilio e che non hanno potuto recarsi presso i nostri punti vaccinali. Sentiti tutti con telefonata a casa, 3500 hanno dato disponibilità a questo tipo di iniziativa. Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, dunque i medici di famiglia si recheranno nelle case per la vaccinazione. Tra i 380 medici del territorio, solo 60 non hanno dato la loro disponibilità, alcuni anche per impossibilità concrete. La nostra potenzialità è veramente elevata perché mediamente un medico riesce a vaccinare quei 10, 15, 20 pazienti al giorno, quindi con delle potenzialità su 380 medici dell'ASL, come potete immaginare, che raddoppiano se non triplicano addirittura la potenzialità aziendale. E' il nostro obiettivo fondamentale, tant'è vero che siamo stati i tre primi a partire effettivamente in tutta la regione a portare la vaccinazione negli ambulatori e nei medici di medicina in generale. Preziosa la collaborazione della guardia medica che nei due giorni in cui i medici saranno impegnati a domicilio sarà attivata in sostituzione. Nel frattempo si avviano le prenotazioni per gli ultrasettantenni. Su questi andrà a convergere tutta l'attività nei prossimi giorni, ultrasettantenni e fragili e disabili. E a proposito di vaccinazioni, dal 29 aprile in Veneto 50.000 dosi del vaccino Pfizer in più a settimana, ma oggi si è parlato durante la conferenza stampa del presidente Zaia anche degli anticorpi monoclonali. Il Veneto, in tal senso, primo in Italia. Ormai è chiusa la partita over 80, anche se si è registrato in Veneto un caso strano. 5% non vogliono vaccinarsi, 1% non rintracciabili, cioè non sappiamo come trovarli. Ora bisogna accelerare la vaccinazione degli over 70, in Veneto sono 490.000. Fino a quando non sarà terminata non si inizierà, ha spiegato Zaia, a vaccinare altre categorie. Non ci saranno poi, aggiunto, rallentamenti nelle vaccinazioni. Da lunedì, con la fornitura del lunedì 26, dovrebbero arrivarci 50.000 Pfizer in più. Quindi dovremmo andare a 156.000 Pfizer, 170.000. Adesso cercheremo di capire. Comunque avremo, rispetto alla solita fornitura canonica dei 120.000, almeno 50.000 Pfizer in più. Moderna, ci sono 20.000 dosi. In questi giorni è il più difficile da inoculare perché è stato altalenante nelle forniture. Il Veneto ieri sera ha raggiunto il record del 92,4% di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate. Zaia ha poi parlato dei ristoratori e del fatto che molti non hanno la possibilità di avere un plateatico. Mi metto nei panni in una città storica come Venezia, dove i plateatici, gli scoperti, sono molto limitati per molti ristoranti. Sulle proteste dei Novax a Conegliano, il presidente è stato lapidario. La protesta è sacrosante, è legittima ed è giusto che tutti possano esprimere le loro idee. Detto questo, dopo bisogna farlo nel rispetto delle regole. Punto. La dottoressa Tacconelli ha presentato lo studio mantico. Il Veneto è primo in Italia nel trattamento dei pazienti con le terapie monoclonali. AIFA ha assegnato alla nostra regione la ricerca su questo tipo di cure. Saranno 1.260 i pazienti over 50 che potranno entrare in questo studio. Non solo, Tacconelli ha poi spiegato che in Italia sono state somministrate 2.000 terapie con anticorpi monoclonali. Di questi 410-420 sono Veneti. All'interno del Veneto siamo organizzati che le terapie vengono fatte in ciascuna ULS, più l'azienda universitaria di Verona e quella di Padova. Verona di queste 420 dosi ne ha fatte 115. Questi pazienti seguiti nel tempo hanno più di 70 anni e con almeno una patologia severa concomitante. Il 27% secondo gli studi subiscono un ricovero e di questi il 25% muore. Invece di questi pazienti trattati con i monoclonali ce ne sono ricoverati 14 e non abbiamo avuto, ha detto, nessun decesso. Ma il Presidente Zai ha parlato anche del rischio caos nel trasporto pubblico con la didattica in presenza a scuola al 100% dal 26 aprile nelle regioni gialle. L'assessore De Berti dice inconciliabile il 100% in classe con capienza del 50% nei mezzi pubblici. Si parla di fatto di 1300-1400 autobus in più che servono per poter portare a scuola i ragazzi. Un conto presto fatto per il Veneto che prima dell'avvio dell'anno scolastico aveva lavorato sul trasporto pubblico con trascenari, didattica in presenza al 50%, 80% e 100% valutando per ognuno di questi quanti mezzi sarebbero stati necessari. Noi abbiamo una settimana di tempo per recuperare autobus privati che hanno una capienza di 25-26 posti per portare a scuola 75.000 studenti. È inconciliabile il 100% in presenza e mantenere la capienza al 50%. Il 100% di didattica in presenza nessuno se l'aspettava ed è stata una doccia fredda per provveditore, per prefetti, per assessori di tutte le regioni. La capienza e la sicurezza sanitaria perché ricordo che la capienza al 50% è stata limitata per motivi sanitari e il ministro De Micheli ci aveva sempre detto che comunque fino alla fine dell'anno scolastico la capienza dei mezzi non sarebbe stata toccata. Per il presidente Zaia la problematica è facilmente inquadrata. 100% in aula, 50 nei mezzi di trasporto, non ci sono i mezzi. O riduci la presenza a scuola o lasci la presenza inalterata e li fai entrare in orari differenziati oppure dai la facoltà ai genitori o per i minorenni o i maggiorenni di decidere se andare in DAD oppure in presenza e quindi adottare un sistema misto. Escluso invece per il governatore la possibilità di riportare la capienza sui mezzi al 100%. Questa la vedo molto difficile sinceramente. Appello al governo perché prende in mano velocemente questa situazione. Intanto domani ci sarà proprio un incontro nel pomeriggio tra governo e regioni per discutere delle riaperture. Ci sarà naturalmente il tema delle scuole e dei trasporti ma si parlerà probabilmente anche delle riaperture dei ristoranti. Sapete i ristoratori sul piede di guerra contro la possibilità di aprire dal 26 aprile solo però all'aperto a pranzo e cena. Allora il sondaggio che vi presentiamo questa sera verte proprio su questo. Vi chiediamo ristoranti riaprire subito anche quelli al chiuso. Se la vostra risposta è sì il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se invece la vostra risposta è no il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente un squillo perché venga registrata. Anche se sentirete occupato state tranquilli perché la vostra risposta verrà automaticamente comunque registrata correttamente. l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Parliamo adesso di caporalato e utilizzo di fitofarmaci non autorizzati nel Serre. Sette persone sono state arrestate dai carabinieri in una vasta operazione che dal Lazio è arrivata anche a Venezia. È arrivata fino a Venezia un'indagine contro il caporalato iniziata dai carabinieri del NAS nell'ottobre del 2019 a Latina. Tra i sette arrestati nell'operazione che ha visto l'impiego di 50 militari c'è anche un bengalese residente nel Veneziano accusato assieme agli altri indagati di associazioni a delinquere dedita allo sfruttamento di manodopere extracomunitarie in agricoltura. L'indagine sul gruppo accusato anche di estorsioni ha poi portato al sequestro preventivo di 557 mila euro di beni pari all'importo dei contributi non versati e all'identificazione di 157 lavoratori tra cui un clandestino oltre al sequestro di 244 litri di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in Serra. Un agente della polizia locale di Venezia è stato aggredito da due giovani che intendevano passare in una strada del Lido momentaneamente chiusa al traffico. Il tratto di strada era stato infatti interdetto per consentire le operazioni di soccorso del 118 ad un 65enne colto da malore che si è poi rivelato fatale mentre percorreva in bicicletta il lungomare Marconi. I due giovani intendevano comunque passare e dopo aver protestato sono passati alle vie di fatto colpendo un vigile con un pugno. Sono stati naturalmente denunciati. Una terapia d'emergenza per salvare la residenzialità di Venezia è quella prospettata dall'ex sindaco Massimo Cacciari per contrastare l'esodo dalla laguna e che chiama in causa la politica. Bisognerà che le politiche anche amministrative locali sappiano che certe tendenze in gran parte naturali negli anni scorsi con l'epidemia possono diventare patologiche e quindi occorrono terapie d'emergenza. Una terapia d'emergenza per salvare quel che resta della residenzialità a Venezia. Quest'anno la crisi del Covid e la conseguente assenza di turisti hanno reso ancora più evidente un fenomeno che dura da decenni ed è impietosamente suffragato dai numeri dell'anagrafe. Per l'ex sindaco Massimo Cacciari si tratta di un fenomeno che può essere invertito solo con un deciso intervento politico. Grandi, grandi aiuti, grandi sovvenzioni per rendere favorevole, appetibile alle persone il vivere a Venezia, cosa che attualmente non è. Mentre fino a una trentina d'anni fa poteva ancora esserlo per i contributi di legge speciale eccetera eccetera, ormai da 15-20 anni non è più. I numeri parlano di perdita di abitanti anche nell'entroterra. Per Massimo Cacciari lo spopolamento di Venezia è comunque un fenomeno fisiologico simile a quello che colpisce tanti centro città. Bisogna tornare a grandi iniziative di sostegno alla residenza perché naturalmente in base alle cosiddette leggi di mercato Venezia come centro storico di Milano, come centro storico di Firenze, di Torino, di New York, di Parigi, di Londra perde abitanti. Una nuova stazione dei treni, una nuova stazione degli autobus e una cantina dei talenti per offrire servizi ai cittadini e alle imprese. Una parte di San Donato di Piave apre i cantieri all'insegna del rinnovamento. Questo è il momento in cui la condizione storica ci chiede anche di osare, di gettare come si dice il cuore oltre l'ostacolo, di immaginare una visione di città sostenibile, più verde, che sia capace anche di migliorare la qualità della vita delle persone. Anche il nome cambia, da Porta Nord a Porta Nuova, a simboleggiare uno dei fulcri del percorso di rinnovamento di San Donato di Piave. Qui, già ad ottobre, è partito uno degli elementi principali di questa trasformazione, quella cantina dei talenti che nel nome mantiene la memoria storica della cantina sociale realizzata 90 anni fa, ma nella nuova veste sarà votata l'innovazione in termini di servizi ai cittadini e alle imprese. Io mi aspetto che questi luoghi, soprattutto, siano quella condizione favorevole per far nascere nuovi posti di lavoro, nuovi lavori, quelli che daranno da vivere ai nostri figli, alle prossime generazioni, alla next generation, come dice l'Unione Europea. Alla cantina dei talenti si sommano altri progetti che trasformeranno la mobilità pubblica, costituendo il nuovo polo intermodale di San Donato di Piave. Sono due distinti cantieri, il primo partirà tra la fine di aprile e inizio di maggio, riguarderà la nuova stazione Atvo, Atvo che è un partner importante per la città, per la città metropolitana, che investirà diversi milioni per realizzare la nuova stazione. L'altro intervento, ancora una stazione, questa volta RFI, e quindi finalmente avremo questi due luoghi dove sarà possibile cambiare il modo di muoversi. Per quello si parla di polo intermodale, dal ferro alla gomma o viceversa, saranno affiancati. I progetti in cantiere porteranno anche ad un ripensamento della viabilità urbana per adeguarla alle nuove esigenze. Ma più in generale la novità del progetto è la cosiddetta metodologia del dialogo competitivo, che permetterà a chi è interessato ad investire, di coprogettare le attività per lo sviluppo del territorio, costruendo partnership pubblico-privato. Grande successo del netemo dei Forte Tron. Molti cittadini domenica mattina si sono recati al Forte per ripulirlo. Puntuali alle nove, muniti di guanti, sacchi giganti e mascherine, e un centinaio di volontari domenica si sono dedicati alla pulizia del verde che circonda Forte Tron in via Colombara a Marghera. L'iniziativa, netemo dei Forte Tron, era stata lanciata nei giorni scorsi da Buongiorno Marghera, l'associazione che ha coinvolto numerose realtà sportive e di volontariato della città. Ci siamo riusciti, siamo felicissimi. Abbiamo recuperato una marea di sacchetti. Ringrazio tutti i cittadini che sono intervenuti oggi, ed erano tanti, sono state almeno 100 persone. Che dire? Adesso ci aspettiamo una risposta dall'amministrazione perché Forte Tron ritorni ai cittadini. I volontari, anche a bordo di Kayak, hanno raccolto bottiglie e rifiuti abbandonati di vario genere, riempiendo numerose decine di sacchi consegnati poi agli operatori di Veritas. Sul posto anche l'assessore alla coesione sociale Venturini, che ha ringraziato i cittadini per l'impegno e vari delegati della Municipalità di Marghera. Club Sandwich a chilometri zero è la ricetta per la ripartenza estiva di un ristoratore di Jesolo. Un club sandwich che viene rivisitato e portato alla ribalta in salsa riaperture ad hoc per la ripartenza anche del settore tra i più flagellati dagli stop, quello della ristorazione. Nasce nell'ottica di incentivare commercio e prodotti locali a chilometri zero con uno sguardo alla tradizione che vede il club sandwich fortemente radicato a Jesolo, pasto per eccellenza della Movida. Abbiamo appena terminato il contesto del miglior panificatore per avere il prodotto base che è il pane, il pan carré, adesso ci spostiamo negli orti di Cavallino per trovare la lattuga e il pomodoro. Negli ingredienti sono il pan carré, c'è la lattuga, il pomodoro, il prosciutto cotto, il formaggio, l'uovo e la pancetta, la pancetta del territorio. Non tutti sanno che il club sandwich anti-rossetto nacque in un ristorante di Jesolo nel 1961 per intuizione di Benito Stefanel che lo divise in quattro parti con altrettanti stuzzicadenti per evitare che le signore lottando con la salsa rosa perdessero il rossetto. Di strada ne ha fatta e ad oggi si arricchisce con prodotti locali anche con l'obiettivo di ripensarlo per uscire dalla crisi in cui i ristoratori si sono dovuti adeguare a nuove modalità di ristorazione come i laboratori senza cucina, pensati unicamente per il delivery. Ci hanno chiuso, chi si è voluto ha fatto una ristorazione take away, ha dato un servizio lo stesso. Si pensi solamente che sono arrivate anche nel nostro territorio le black kitchen che sono le cucine in realtà dove non ci sono i fornelli. Quindi l'imprenditore della ristorazione è sempre in movimento, dobbiamo saper seguire questo movimento qua. Siamo allo sport basket, l'Umana Reier ha battuto Bologna, una vittoria di squadra ha detto il coach Oro Granata al termine della partita. Due giornate al termine della regular season, l'Umana Reier consolida il quarto posto in attesa dei recuperi di Sassari, avendola meglio sulla fortitudo lavoro più Bologna con un risultato finale di 92 a 76. Un match disputato a viso aperto su entrambi i fronti e in cui i ragazzi di coach De Raffaele hanno dato prova di grande solidità. È stata una vittoria di squadra, una vittoria in cui tutti i giocatori, essendo noi anche in una situazione come del resto Bologna, di assenze, abbiamo avuto un contributo da tanti giocatori, sono riusciti a far giocare tutti. La vittoria è proprio stata un contributo di tutta la squadra che credo ci tornerà utile più avanti con tanti giocatori che si sono sacrificati fuori ruolo. Una partita che nei primi due quarti abbiamo pensato di vincere soltanto con l'attacco e che invece nel terzo e nel quarto quarto abbiamo unito a un buon attacco, certamente un'attitudine difensiva diversa che è arrivata poi da chi dalla panchina ha dato quell'energia importante per girare l'inerzia. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera in prima serata alle 21.15 su Antenna 3 con Ring, ospiti, l'assessore, vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia e poi Francesca Zottis del Partito Democratico, l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega e Daniele Bovolato, ristoratore. Appuntamento dunque alle 21.15 su Antenna 3 con Ring. Ed è tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo. Italia ancora ostaggio dell'instabilità. Sul nostro territorio qualche disturbo ci sarà ma le temperature tenderanno ad aumentare. Il dettaglio di martedì 20 aprile. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione tutto sommato tranquilla ed in effetti a prevalere sarà il sole. Al mattino cielo al massimo poco nuvoloso, dal pomeriggio addensamenti sui rilievi anche con qualche acquazzone possibile localmente fin verso le aree di pianura. Temperature come detto in ripresa, minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi compresi invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli-Venezia-Giulia più sole al mattino. Con il passare delle ore, cielo via via più coperto con qualche rovescio sui monti. Temperature minime tra 6 e 8 gradi. Massime sui 15-18 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà una splendida giornata soleggiata salvo per isolate piogge nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 6 gradi. Massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Silea Legnami Le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.